Racalmuto è il patrimonio produttivo delle miniere di sale Italcali. L'intervista in prospettiva all'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. In verità è proprio una eccellenza della Sicilia. Ho avuto il piacere di ricevere il dottore Scimemi, che è il presidente, e assieme all'avvocato Morgante ho assunto l'impegno di concordare con il presidente della regione un incontro ad hoc. Una realtà come questa non può non essere valorizzata. Noi siamo molto attenti e siamo certi che questo sviluppo vi sarà per davvero. L'Italcali potrebbe essere una realtà leader nel mondo. Per tanto tempo è stata sottovalutata e forse ridimensionata a sproposito. Io spero che con questo nuovo governo vi sia il desiderio di rilanciarla. La proprietà fa sapere che è pronta a fare grandi investimenti e il governo della regione non sarà da meno. Certamente agevolerà questo percorso. Tutto l'abbiamo rinviato all'incontro operativo con il signor presidente della regione, con l'onorevole Musumeci. Il dottore Scimemi quando mi è venuto a trovare, che è il direttore, mi ha detto di quante assunzioni si possono realizzare e di come si può, ottenendo l'autorizzazione per l'implementazione della miniera, di quanto prodotto si può estrarre. Noi siamo certi che la dimensione del governo è diversa, l'approccio è molto diverso rispetto a prima. L'Italcal è una realtà seria e noi la valorizzeremo.